Ciao amici, buon sabato, buon weekend, ritorno alla Serie A ovviamente in questo calendario fitto, poi c'è ancora una riunione di Lega per comprendere quali sono le misure da prendere sempre contro questo aumentare dei contagi, vedremo cosa decideranno. Detto ciò domani c'è Roma Juve, fatemi dire prima una cosa che vedo intanto la squalifica di Allegri è giusta come ha detto lui perché se ha detto qualcosa di offensivo verso l'arbitro l'arbitro l'ha messa a referto ed è giusto così. Però fatemi dire una cosa sulla sempre disonestà intellettuale perché la Juve è stata multata per 10.000 euro per insulti territoriali, quella roba lì, mentre non si è fatto caso agli unulati che fanno schifo dappertutto e per chiunque su Kin e queste sono sempre due pesi e due misure per quelli che dicono sempre che la Juve comanda il castello, il grattacielo, il palazzo, i condomini e tutto quello che volete. La trovo una cosa indegna, la trovo una cosa diciamo disonesta da parte di chi decide però questo ovviamente è una mia opinione e non so voi cosa ne penserete. Veniamo alla partita. Come già detto è una partita dove domani veramente come doveva essere già con il Napoli. Bisogna vincere assolutamente per sperare dovessimo andare in Champions League quest'anno. La vedo dura se non si interviene sul mercato ma questa è per ora. Ci saranno dei cambi, forse giocherà Dybala titolare, Arturo non giocherà, forse domani fa il centrocampo a due e farà fuori Rabiot, si spera almeno. Rientra De Scilio perché la difesa è De Scilio, Rugani, Delicte e Quadrado, già l'ha detto. Al centrocampo Locatelli, Meccani dovrebbe essere, poi dovrebbe essere Bernardeschi, Morata e Dybala a meno che all'improvviso non faccia giocare Arturo il titolare, fa di nuovo il centrocampo a tre e fa un 4-3-3 un po' storto con Dybala che non è né carne né pesce ma vedremo poi la sua prestazione come sarà se andrà a prendere di nuovo palla da Scesni e vedremo cosa sarà in campo. Cosa è stato di nuovo dichiarato da Allegri dove a volte noi non vogliamo crederci, non vogliamo arrivarci o non vogliamo pensarlo, che Allegri sapeva già tutto prima dell'inizio del campionato, a lui gli avevano fatto gli onori, oltre per quello che ci ha fatto vincere insieme alla squadra, insieme alla società perché è sempre tutta una squadra, che ha detto che sapeva dove sarebbe arrivato, dove ci sono giocatori giovani, giocatori senza mentalità, con non troppa spesa per intervenire sul mercato, perciò lui sapeva tutto, perciò già la scelta che ha fatto di non aver accettato il Real Madrid e riuscire a tornare alla Juve, questo fa sì che ci debba almeno essere un briciolo di riconoscimento questo allenatore dove anche lui sta facendo secondo me degli errori a volte anche abbastanza lampanti, soprattutto quello di insistere su Rabiot, se Alexandro era obbligato a farlo giocare perché De Scilio veniva dall'infortunio, Pellegrini era influenzato, sei costretto lì visto che non c'è nei chiellini, non ti puoi inventare nulla visto gli infortuni e il Covid, ma Rabiot si possono prendere scelte diverse, questo ragazzo qui dove io avevo grosse aspettative, non lo rinnegherò mai, ancora di più quest'anno con l'avvento di Allegri questa cosa qua non è venuta fuori, anzi sembra addirittura peggiorato rispetto a prestazioni che facevo l'anno scorso, questo mi duele dirlo ma così è, un giocatore della sua stazza, un giocatore della sua progressione, un giocatore della sua volendo forza fisica si perde in tutto quello che fa, non ci mette la gamba, non ci mette un po' di grinta, perciò è un giocatore che andrebbe messo ai margini della titolarità di questa Juve per quanto mi riguarda. Le attaccanti, io quando parlo di attaccanti voglio gente feroce, voglio gente capace di fare l'attaccante, voglio gente che sia capace di intervenire su palle sporche, gente che sia capace di capire dove possa andare a finire il pallone, perché l'incornata di Keane, il cross di quadrato verso la fine di Juve Napoli, lui è partito prima, un grande attaccante cosa fa? Fa movimenti, aspetta perché sa dove può arrivare il cross del compagno quadrato, perché quando ci si allena insieme si sanno anche pregi e difetti dei compagni, perciò quadrato puoi aspettare perché è abbastanza preciso, magari Bernardeschi fai una lettura diversa, ti muovi un po' prima perché non sai cosa può succedere quando appalla Bernardeschi, con chi si aspetti un attimo perché spesso lui metterà la testa giù e vuole andare da solo, magari non ti vede, è inutile fare un movimento in più e aspetti dargli una possibilità di giocata in caso viene verso di te, noi abbiamo bisogno di un attaccante, se poi si aggiungesse un attaccante insieme e resta anche Morada, a me va benissimo, ma noi abbiamo assolutamente bisogno di un terminale offensivo, perché la narrazione che è stata fatta dopo il Napoli, secondo me è un po' errada dei 70 metri dalla porta, di giochiamo troppo lontano, no, perché quando arrivi intorno a 22-23 azioni, diciamo di pericolo vicino all'area di rigore, dove arrivi 15 volte in area di rigore e fai un gol e sei pochissimo pericoloso, la narrazione deve essere un'altra, la narrazione è che non sappiamo con la palla al piede cosa facciamo, non sappiamo, non abbiamo degli schemi ben precisi e qua do la Coppa un po' al mister, perché lo ripeto, sono giocatori di Serie A, ma sono anche giocatori secondo me tatticamente e calcisticamente poco intelligenti, perciò un allenatore deve correggere quelli che i suoi giocatori non sanno fare, Bernardeschi porta la palla sempre due secondi in più, Morata si muove sempre troppo prima e non quasi mai detto il passaggio in tempo al compagno, Chiesa mette troppo la testa giù e vuole andare sempre da solo a spaccare il mondo, ci sono delle cose, gli centrocampisti che accompagnano meno, tiriamo poco da fuori aria e soprattutto quando tiriamo lo facciamo sempre con pochissima precisione per dire nulla, perciò noi ci dobbiamo attendere qualcosa di più dei giocatori, perché va bene le lotte di religione, Juva, Agnelli, Allegri, ragazzi in campo poi ci vanno i giocatori e se Alessandro fa una cosa del genere, Rabiot che perde palla vicino al limite dell'area di rigore nostra o se Morata fa sempre la faccia di quello scazzato e giocatori dobbiamo anche dirgli qualcosa, quando si gioca bene, quando si gioca male, quando la prestazione è buona, mediocre, ottima, questo dobbiamo fare noi, perché oltre allo stemma e lo dirò sempre, oltre allo stemma il resto conta zero, conta l'Albodoro, conta vincere e se a me mi fa vincere Miretti, mi va benissimo Miretti, se mi fa vincere Piontek se doveva arrivare alla Juve, va benissimo Piontek, io voglio vincere, voglio vincere e per vincere ci vogliono giocatori cazzuti, ci vogliono giocatori che sanno cosa significa la parola vincere, che sanno cosa significa la parola Juve, che sanno che nella Juve devi competere per vincere, poi non vince un'altra storia, ma devi competere per vincere, io lo ripeterò sempre, ci sono state partite indegne da parte dei giocatori, dell'atteggiamento, della faccia quando inquadrano e sono risetti anche in campo mentre si sta perdendo, il non voler ribaltare e mangiarsi l'avversario, queste sono cose che fanno male a chi più o meno come me ha giochicchiato, per chi ha passione, per chi ha amore per questa maglia, perché quello stemma va onorato almeno dal punto di vista della prestazione e della voglia e della fame e della voglia di vincere, poi non si vince chi vede il calcio in maniera giusta e obiettiva ed equilibrata, li vanno fatti sempre i complimenti, applauditi se la prestazione c'è, ma se con la Lazio per me è stata la miglior partita fatta purtroppo dopo l'infortunio di Danilo, se con la partita non si sarebbe portata a casa, io ero il primo a battergli le mani perché è stata una prestazione intelligente, avevamo sbagliato tanti contropiedi, tanti gol, però c'era la testa di voler mangiarsi l'avversario ed è stata fatta per gli ultimi 70 minuti, dall'infortunio di Danilo in poi, queste sono le cose, la mentalità sapendo che incontri una squadra più forte come il Chelsea all'andata soprattutto a Torino, ti sei messo lì a lottare e hanno deciso che quella partita la dovevano portare a casa, questa è la mentalità, poi ripeto, ci sono deviazioni, episodi, palo, traverse, sbagli dei gol, va benissimo, ma se la prestazione è positiva e aggressiva ed hai voglia di vincere, è molto più facile che la vinca una partita anziché metterla sempre sull'equilibrio e non sai se può andare di là o di qua, non sai se la puoi portare a casa o pareggiare o vincere e quando sei la Juve ti siedi sul divano a vedere la partita, io sto poco seduto l'ora e mezza, sto spesso in piedi e non sai che prestazione posso uscire dalla Juve, questo a me fa male, ecco perché io non rimpiango i giocatori di prima perché gli vanno fatti l'applauso per quello che si è vinto, che non si è andata a cercare sul mercato anche nei giovani tipo De Ligt, De Ligt è un giovane ma c'è già una mentalità pazzesca, giocatori che hanno fame, giocatori che hanno voglia, giocatori che in campo sputano sangue, calcisticamente parlando, poi si possono aggiustare le altre cose, ma io voglio vedere altro, domani noi assisteremo a due allenatori dove fanno giocare ad oggi pochissimo le squadre tecnicamente, dove 3-4 passaggi di fila è difficilissimo a vedere, addirittura io ho paura domani delle linee intermedie della Roma perché aprano l'incontro, Pellegrini, Verre e Tu che si stanno inserire perché spesso noi lì davanti se non abbiamo un punto ben preciso di riferimento andiamo in difficoltà, l'abbiamo visto anche con il Napoli, l'abbiamo visto col Chelsea a Londra, perciò dobbiamo fare una gara a Gagliarta, dobbiamo portare a casa i tre punti perché noi siamo la Juve, perché la Roma ha tre squalificati importanti perché Mancini, Cristante e Carso per i principi di giochi di Mourinho sono molto importanti, soprattutto le fisicità di Mancini e Cristante, ci conta tanto Mourinho ed è una Roma in difficoltà, ecco perché la grande squadra, ricordiamoci, non il passato per paragonare, perché ormai non si paragona più quella Juve a questa, ma una grande squadra, chi c'è, chi gioca in una grande squadra, soprattutto approfitta e non sbaglia nelle difficoltà degli avversari, il Napoli in difficoltà non siamo stati capaci, dobbiamo sperare che domani a Roma siamo capaci di approfittare delle loro, diciamo cominciano gli scricchiolini con Mourinho, i tre squalificati, Zannulo va sempre da solo, ci sono già tutti questi commenti, dobbiamo approfittare di questa cosa perché è una piazza sempre pronta all'innescare diciamo la polemica e tutte queste cose qua, dobbiamo approfittare di questa cosa, se così non fosse noi ci meritiamo quello che stiamo facendo e la posizione di classifica che abbiamo, questo è quello che penso, mi auguro che i ragazzi almeno mettano un po' più di un barlume, un barlume di voglia in più di quello che stiamo vedendo, perché io l'unica partita dove ho visto veramente una voglia di fare una partita a Gagliarda, non bellissimo magari tecnicamente, ma avevi capito da subito che per il Chelsea sarebbe stata dura a vincere, è stata la partita di andata, viva Chelsea, là erano tutti mentalizzati e hanno dato tutto il 110%, mi accontento di questo, poi il risultato sarà spesso la conseguenza di quello che metti in campo e a volte può essere anche figlia dell'episodio. Ciao a tutti da Frank Bianconero, sempre fino alla fine, Forza Juve!